Con il passare del tempo si acutizza il problema delle aggressioni nel carcere Terramano di Castrogno che vive una situazione cronica di sovraffollamento e carenza di personale. L'ultimo episodio registrato qualche giorno fa dove un detenuto albanese ha sputato in faccia un poliziotto addetto della vigilanza e osservazione del terzo reparto impegnato nell'accertamento numerico dei detenuti. La notizia è stata resa nota dal SINAP e il sindacato di polizia penitenziaria che ha inoltre evidenziato che il detenuto in questione si è reso già protagonista di altri episodi di violenza ed è restito al rispetto delle norme e alle regole di convivenza. Sulla vicenda è stata espressa anche grande preoccupazione dalla FP CGL di Terramo. Sempre di più sono aggressioni e sembra proprio che ogni giorno un agente di polizia penitenziaria sa che la mattina si sveglia e potrà essere aggredito. E questo oltre al problema che noi abbiamo anche denunciato, abbiamo anche chiesto di fare un consiglio comunale straordinario proprio qui a Terramo, non solo è aggravato dalle condizioni del carcere ma è aggravato da un non rispetto di una circolare del DAP. Una circolare del DAP che impone che i detenuti che creano problemi, che quindi ci sono aggressioni, quindi detenuti che sono stati identificati, devono essere trasferiti in altra sede. Ma ad accendere ancora di più la già delicata condizione delle carceri abruzzesi è che l'ipotesi di riportare il provveditorato dell'amministrazione penitenziaria Prappa a Pescara è svanita la pubblicazione dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante le modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della Giustizia. Infatti il rischio concreto è quello di vedere le strutture carcerarie abruzzesi gestite a livello interregionale dal provveditorato di Perugia. E per questo motivo le RSU e i sindacati hanno inoltrato una richiesta urgente di intervento al Presidente Marsilio e al Consiglio regionale abruzzese. A Perugia per Umbria, Abruzzo e Molise. Vi dico solo un dato. In Abruzzo ci sono sei casi circondariali, tre ce ne sono in Molise, due in Umbria e il PRAP v'è nella sede di Perugia. Anche con l'ultimo decreto, non che le cose fossero migliorate, ma Lazio, Abruzzo, Molise con alcuni settori a Pescara è in dismissione, però è capibile che se ci sono esigenze specifiche è bene che i PRAP, quindi i provveditorati per il Ministero della Giustizia, che sono quelli deputati poi a risolvere anche le questioni, debbano essere in loco o comunque nelle vicinanze delle case circondariali dove migliaia di agenti di Polizia Penitenziaria fanno fronte a problemi in mani.